buongiorno a tutti siamo qua per festeggiare i cento anni del sassuolo calcio anche se una una conferenza stampa che elencherà le iniziative che la società terrà in un prossimo futuro innanzitutto mi hanno comunicato che abbiamo ricevuto i saluti del presidente della federazione gravina e del presidente della lega dal pino che ringrazio in modo che i lavori possono svolgersi nei migliori dei modi volevo ringraziare tutti gli atleti dirigenti i tifosi che in questi 100 anni hanno sostenuto il movimento calcistico di questa piccola città che è riuscita a competere con realtà calcistiche che solo alcuni anni fa nemmeno ci sognavamo lasciate però lasciatemi però sottolineare che la mappei del dottor giorgio squinzi dalla moglie adriana spazzoli è stata determinante per ottenere questi risultati e sottolineando che il dottore aveva un obiettivo ricordato poco più di un anno fa in questa stessa sala andare in champions questo dovrà essere anche il nostro obiettivo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per sassuolo e per la sassuolo sportiva grazie 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 a tutti voi per essere qua con noi perché da un po di tempo che non ci vediamo essere qui nella nostra casa nella nostra nel nostro modo in cui viviamo quotidianamente e soprattutto aver potuto dare la possibilità alla riapertura ad alcune persone esterne perché in questo momento il centro è chiuso a tutte tutte le altre persone credo che sia proprio una cosa straordinaria perché ci dà un po anche quella voglia e quella forza di pensare che le cose possono andare avanti che tutto si può migliorare e credo che condividere certi momenti sicuramente di grandissima soddisfazione domani è una grande giornata come diceva il presidente perché 17 luglio 17 luglio 2020 la ricorrenza dei nostri 100 anni per cui vuol dire 17 luglio 1920 è una grande una grande data sassuolo è una società comunque che è cresciuta è una società che è guidata da una grandissima proprietà da una grande azienda che è riuscita in questi anni a creare un percorso proprio molto importante soprattutto anche con una mission una mission ben precisa con degli obiettivi con un con del con grandissima progettualità la progettualità che sempre quella di crescere sempre quella di migliorarsi e mantenendo sempre un'altra cosa importante quella dei valori perché una società comunque che cerca di esprimere di mantenere dei valori di un certo tipo per cui i valori che si possono anche differenziare dal modo anche di giocare dal modo di lavorare rispetto a tante altre società di calcio è chiaro che siamo in un momento di come dicevo prima di difficoltà noi avevamo pensato di fare tutta una serie di eventi che purtroppo magari in queste situazioni sono state annullate le abbiamo modificate pensavamo di fare anche una giornata di apertura differente da quella che stiamo facendo adesso ma nello stesso tempo non ci perdiamo d'animo perché abbiamo la consapevolezza che tutte queste opportunità che noi abbiamo in cantiere le potremo sviluppare in i prossimi mesi da domani partono le ricorrenze del centenario avranno una durata per tutta la stagione prossima credo che molte iniziative di quelle che parleremo oggi sono iniziative definitive per cui già sapendo come le faremo e quando le andremo a fare ce ne saranno tante altre invece che le proporremo nel corso della stagione perché appunto dovremo valutare e capire se ci saranno appunto le opportunità per poter fare tutto questo e prima di passare alle iniziative io vorrei innanzitutto ringraziare tutti voi perché ci seguite quotidianamente per cui con tutte le difficoltà che ci sono però siete quelli che poi date voce anche al sassuolo calcio tutti i giorni vorrei ringraziare i nostri tifosi che purtroppo oggi come oggi sono tra i più penalizzati noi stiamo facendo di tutto per cercare di riaprire gli stadi in parte al nostro pubblico credo che il calcio senza tifosi non può esistere siamo stati la prima società a iniziare gli allenamenti ci piacerebbe molto anche essere una delle prime società a poter fare entrare il pubblico nel nostro stadio vorrei ringraziare anche i nostri sponsor che ci sono stati vicini che ci sono vicini che ci danno una grandissima mano il presidente carlo rossi perché è una parte della nostra storia del sassuolo calcio lui ci ha raccontato alcuni anedoti ma ce ne potrà raccontare tanti altri perché sicuramente un po il la persona che è stata più vicina qui davanti a me vedo anche remo morini che anche lui è un po un personaggio storico sia come età che anche come militanti in questa in questa società vorrei ringraziare il mister mister de zerbi perché anche lui come me come tanti altri hanno l'onore di partecipare in questo momento a queste ricorrenze e ringrazio lui ringrazio tutto il suo staff per quello che si sta facendo per come si sta comportando la squadra ringrazio il capitano perché qua con noi perché anche il capitano è una persona della società è un ragazzo che qui con noi da tanti anni ed è riconosciuto tale proprio come un nostro compagno di viaggio nella crescita del sassuolo calcio e ringrazio poi anche tutti i suoi compagni di squadra vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori perché i collaboratori miei sono quelli che poi porteranno avanti tutta una serie di iniziative ma anche loro hanno avranno il compito di gestirle nel modo migliore ma anche l'onore di essere partecipi in questa grandissima ricorrenza per ultimo la famiglia squinzi perché qua con noi e questo ci dà la continuità per cui ringrazio veronica ringrazio marco perché sicuramente sono le persone che ci danno quella quella grande forza e soprattutto l'opportunità di poter continuare in questo progetto che il progetto sassuolo calcio detto questo vorrei iniziare punto con le iniziative come dicevo ce n'erano tante in cantiere molte sono state sospese non dico annullate vedremo un po nel cammin facendo che cosa si riuscirà a fare però io partirei subito dalla prima iniziativa che è quella del nuovo logo il nuovo logo è un logo che oggi vi presentiamo in anteprima e lo proporremo al pubblico da domani abbiamo voluto mantenere il simbolo del sassuolo calcio la storia del sassuolo calcio con l'aggiunta dei 100 anni e credo che questo logo ci accompagnerà sempre da da domani saranno su tutte le comunicazioni del sassuolo calcio per poter dopo proseguire anche in tutte le altre diciamo opportunità che avremo per poter presentare i 100 anni del sassuolo calcio ecco questo è il nuovo logo del dei 100 anni logo sempre con il nero verde con una grande decorazione in oro dove abbiamo voluto appunto far risaltare 100 e questo sarà il logo come dicevo che ci accompagnerà per tutti i nostri eventi tutta la nostra comunicazione fino anche ad arrivare a quello che andrà esposto sulla maglia sulla maglia lo proporremo con l'inizio della prossima stagione nel momento in cui andremo a fare una nuova presentazione la presentazione verrà fatta verso la fine di agosto in questo caso credo che è importante perché un nuovo traguardo ma un nuovo traguardo che noi abbiamo voluto cercare anche di portare avanti con una nuova azienda infatti noi dal prossimo anno avremo una nuova azienda importante che ci seguirà e che ci seguirà appunto per tutta la stagione per cui sarà un nuovo sponsor tecnico che andrà a sostituire il marchio k e con loro porteremo avanti tutta una serie di progetti con il logo del centenario per cui ecco 100 100 anni portano una nuova veste è un passaggio è un passaggio importante è un passaggio che io mi ricordo quando feci il contratto con k fu già un un cambiamento già con un'azienda nazionale andremo a fare un cambiamento con un'azienda internazionale per cui credo che questo fa capire anche il buon lavoro che la società ha svolto perché ormai è appetita anche da grandi club anche da grandi aziende che sono proprio un che lavorano a livello internazionale con il proseguimento del nuovo logo abbiamo una nuova opportunità per tutti i nostri tifosi che appunto è che da domani dalle ore 17 partirà che sarà il nuovo sito internet noi stiamo cercando di lavorare molto su tutto quello che sono che tutto quello che la parte digitale che tutto quello che la parte web faremo anche investimenti con la società per livello proprio di società e perché credo che un po la parte digitale un po quello che accompagnerà il tutti i giovani tutti i ragazzi da domani noi presenteremo il nuovo logo che sicuramente fatto con una nuova grafica che consentirà di valorizzare al massimo tutti quelli che sono i contenuti digitali in alta definizione avremo il sistema del single sun on che daremo la possibilità di effettuare acquisti di tutto quello che riguarda un po il mondo sassuolo che va dalla biglietteria va dal tutto quello che riguarda il merchandising tutto questo potrà essere fatto all'interno di questa diciamo di questa sezione con degli accessi dedicati per tutti i contenuti per cui diciamo che c'è anche una a livello proprio di innovazione qualcosa di più importante rispetto a quello che c'era tuttora e sicuramente un sito di grande qualità è un sito tra l'altro dove è stato inserito in parte integrale anche tutto quello che riguarda il calcio femminile per cui in un'unica sezione troveremo tutto quello che potremo fare anche questo è un investimento che la società ha voluto fare che credo comunque che sia importante per quello che riguarda la nuova veste del centenario io prima parlavo dei tifosi perché credo appunto che i tifosi per noi sono le persone gli amici che ci danno anche la forza che ci danno la possibilità appunto di di darci quel qualcosa che tante volte non ci viene manco riconosciuto ogni tanto mi vengono mi dicono ma potersi che il sassuolo in questo periodo senza tifosi va meglio perché abituato a giocare con con poche persone allo stadio sicuramente non è così perché noi non dobbiamo dimenticarci che sassuolo è una piccola città 40.000 abitanti abbiamo 7.000 abbonati per cui un numero di un certo tipo giochiamo in uno stadio che è un pochettino più distante rispetto a dove noi ci alleniamo ma credo comunque che anche quei pochi tifosi che abbiamo sono tifosi che ci sono molto vicini e noi non dobbiamo dimenticarci non vogliamo dimenticarci di tutti loro credo che abbiamo in mente delle iniziative che vorremmo sicuramente portare avanti con delle feste con la possibilità di festeggiare un po' tutti assieme avevamo in mente di fare un evento all'interno della piazza che l'abbiamo spostato però credo che queste sono iniziative che sicuramente andremo a fare e vorremmo fare qualche cosa di grande valore per i nostri tifosi che sono quelli grandi sono anche quelli più giovani quest'anno stiamo cercando di definire con la Lega Calcio Italiana anche la Supercoppa Italiana Primavera che vorremmo giocare al nostro stadio al MAPE Stadium perché si vuole proseguire sempre in quello che è stato fatto il lavoro di quest'anno abbiamo ospitato le nazionali abbiamo la nazionale maggiore l'Under 21 gli europei dell'Under 21 e vogliamo proseguire per cui stiamo cercando di questo che sarà un po' il primo evento della prossima stagione di farlo presso il nostro stadio per cui la volontà e sicuramente ci saranno di fare qualche evento legato proprio alla promozione dei 100 anni con il nostro pubblico ed è per questo che con la proprietà abbiamo voluto appunto programmare per il mese di agosto, fine agosto la nuova apertura del centro store a Sassuolo per cui nella piazza piccola a Sassuolo finalmente anche il Sassuolo Calcio avrà un suo store dedicato che sarà un po' un punto di ritrovo dove all'interno di questo punto di ritrovo si potranno acquistare i biglietti, si potranno fare gli abbonamenti diciamo che anche per le persone che vivono la città avranno la possibilità di condividere la passione del Sassuolo Calcio assieme a noi prima il Presidente parlava del saluto che ha fatto il Presidente della Lega Nazionale Calcio il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio il centenario rappresenta un traguardo straordinario è l'occasione migliore per ripercorrere il passato ma anche guardare al futuro con fiducia e soprattutto con grande passione grazie all'impegno del gruppo MAPEI e all'operato di una dirigenza qualificata il Sassuolo si è affermato come un club che opera con programmazione e innovazione una realtà moderna sia in campo che fuori e che ha investito per competere senza snaturarsi preservando la sua tradizione, il forte legame con il territorio lo stadio, il centro di allenamento e la valorizzazione dei giovani sono degli asset fondamentali che ne fanno un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale rivolgo a tutti gli appassionati neroverdi il mio augurio personale è quello dell'intera famiglia federale della Federazione Italiana Gioco Calcio per questo speciale compleanno al quale consentitemi di aggiungere un altro importante augurio che vale comunque per tutti quello di superare finalmente le grandi difficoltà le enormi difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi mesi Forza Sassuolo Auguri al Sassuolo Calcio per i suoi primi cento anni di storia tanti tanti complimenti Giorgio Squinzi ha portato questa squadra dai dilettanti all'Europa con un progetto che è un esempio per tutti un punto di riferimento è riuscito in un successo che è un successo sportivo ed è un successo imprenditoriale stadio proprio come molti club hanno nella propria progettualità e nei propri desideri management forte che ha coniugato ottime risultati sportivi con una sana gestione aziendale Giovanni Carnevali ha ottenuto dei risultati estremamente importanti tanto che il Sassuolo è pronto per l'ottavo anno di fila in Serie A tanti complimenti tanti complimenti ancora a tutti alla famiglia Squinzi che ha mostrato una passione e un entusiasmo per il calcio e a tutta la struttura al management ai giocatori allo staff a tutto il Sassuolo tanti tanti auguri Grazie grazie per queste belle parole è vero in un momento di difficoltà perché chiaramente non è facile ma in un momento di difficoltà che se si è tutti uniti se c'è grande forza se c'è progettualità se ne può venire fuori i presidenti hanno accennato anche ai giovani e credo che proprio con i giovani noi dobbiamo cercare di lavorare credo che lo abbiamo dimostrato nel passato lo stiamo dimostrando con il settore giovanile che sta crescendo molto lo stiamo dimostrando con la prima squadra con Mr. Der Zerbi che ha fatto esordire un ragazzo giovane del 2000 e questo progetto noi lo vogliamo migliorare ancora e abbiamo ideato un progetto che si chiama Generazione S Generazione S è un progetto sicuramente innovativo è un progetto speciale diciamo che nel momento in cui io ne parlai con il dottor Squinzi e la dottoressa La Spazzoli e facciamo vedere anche un filmato rimasero entusiasti perché è proprio il concept, la volontà e la mission del Sassuolo Calcio io comincerei a vedere questo filmato poi vi spiego in poche parole che cosa consiste Generazione S Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 la parola a me piace mantenere la parola e l'altra cosa che ci che mi chiese era la champions league questa non so se riusciremo a mantenere la parola perché dipende da tutti dipende da tante da tante cose però il fatto di iniziare il terzo anno di fila in questa società avendo mantenuto quella che è stata la parola data è motivo di orgoglio allo stesso modo motivo d'orgoglio essere parte di questa famiglia che di anno in anno migliora e mantiene mantiene non 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 scende al compromesso del risultato perché mantiene comunque lo spirito e i valori di sempre noi sappiamo che oggi abbiamo due stelle dall'alto che ci proteggono e questo ci dà ancora quella forza in più per cercare di fare tutte le cose al meglio noi siamo convinti che ci riusciremo e che faremo sicuramente qualche cosa di importante capitano beh adesso sono un po in difficoltà perché ero abituato a domande quindi fare un po da solo e diventa più complicato beh io diciamo che sono fra fra i più grandi qua a livello di 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 militanze in un club quindi per me diventa diventa oggi una giornata particolare ancora di più sono sono legato profondamente a questa squadra a questa città alla famiglia squinzi a tutti quelli che poi sono venuti ho avuto la fortuna di di essere allenato da grandissimi allenatori ho avuto la fortuna di essere allenato tuttora un grande allenatore e di 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 aver condiviso con tantissimi compagni questo percorso unico c'è una cosa forte che mi che comunque vada si contraddistingue qua certe cose non sono mai cambiate è ovvio che che la società ha dovuto in qualche modo investire ingrandirsi innovarsi però credo che una cosa non è mai non è mai cambiata è quella della della familiarità della progettualità è quella di fare un passo alla volta è sempre stata una società lungimirante ma che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba e ha dimostrato che con con coraggio con idee si possono raggiungere risultati incredibili io ho fatto parte di questo percorso e tra poco lascerò quindi voglio lasciare questa questa squadra sul campo perlomeno nel migliore dei modi e magari lasciarla nelle competizioni europee sarebbe una grande una grande soddisfazione grazie ma tra poco non è inteso alla fine della stagione tra poco in là tra poco in là perché no bisogna sottolinearlo perché qui non facciamo scherzi non facciamo scherzi ecco in questi questi discorsi è venuto fuori punto la familiarità e soprattutto la famiglia squinzi e credo che sia anche giusto in questo momento dedicare un pensiero loro con un filmato applicare al calcio quello che è la filosofia che io applico nel mio lavoro e in tutti gli sport che è quella mai smettere di pedalare uno slogan che viene dal ciclismo ma che si adatta molto bene lo sport non non è puro divertimento non è puro e semplice attività sportiva e qualche cosa di più e qualche cosa è uno strumento per far crescere i giovani e farli crescere da loro una opportunità di crescere correttamente perché il gioco ripeto deve essere qualcosa di questo genere e la nostra squadra tutti i giorni lo dimostra il trionfo del sassuolo esplode il braglia il segreto è semplicemente di fare le cose seriamente applicare anche nel calcio quelli che sono un po i nostri parametri i parametri che applichiamo giornalmente nella nostra attività imprenditoriale noi siamo sempre cresciuti ma poi non ha mai fatto un passo indietro ci sono due modi per arrivare in champions o arrivare terzi in campionato o vincere l'europa ligue l'europa bussa per la prima volta in casa della sassuolo è la notte di sassuolo lucerne non sbaglia de frel sempre più vicino il playoff l'europa ligue si gioca al mapei stadium il sogno del sassuolo l'europa del calcio che conta apre ufficialmente le sue porte alla sassuolo un percorso che stiamo portando avanti con questa squadra l'obiettivo è sempre lungo la champions prendete pure il vostro tempo ma l'obiettivo è quello noi siamo gente molto proiettata sul futuro cerchiamo sempre di creare in anticipo le condizioni per poter crescere direi che è stata una crescita continua sappiamo come il calcio sia importante non solo in italia ma nel resto del mondo però porta grande visibilità e soprattutto quando si vince perché purtroppo bisogna vincere tanto è vero che abbiamo investito con questo bellissimo centro che invito tutti a vedere è un centro a sassuolo che permetterà di essere indipendenti per gli allenamenti per gli incontri per la formazione e quindi spero che darà ottimi risultati questa è una struttura importante per la squadra e anche una struttura che evidentemente è a disposizione della popolazione di sassuolo grazie a tutti 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 farvi vedere un po' questo filmato credo che sicuramente è commovente però lo dobbiamo vivere tutti con gioia e ci deve dare appunto come dicevo prima quella forza per poter sempre andare avanti e in questo caso proprio vedendo questo filmato l'amministrazione comunale di Sassuolo in concerto appunto col Sassuolo Calcio ha ritenuto a completamento della realizzazione un po' di tutto quello che è il centro sportivo il Mappai Football Center di intitolare la via principale d'accesso al vostro papà a Giorgio Squinzi e il campo principale dove si effettuano tutte le partite del settore giovanile per cui sia maschile che femminile un campo che ha tutte anche l'UEFA adesso ci darà la possibilità di poter svolgere partite e poter anche ospitare le varie nazionali nel nostro centro e questo lo dovremo titolare appunto alla vostra mamma perché credo che questo sia da parte del comune e da parte del Sassuolo Calcio questo è il grande desiderio per cui noi ringraziamo tutta appunto le istituzioni comunali per quello che loro ci hanno dato come possibilità per cui grazie a tutti a te anche se so che non è così semplice facilissimo soprattutto dopo questo video esatto diciamo che dopo questo video dopo questa accoglienza sicuramente non posso che ringraziare veramente per tutto oggi è un grande e importante anniversario per il Sassuolo Calcio e meritava proprio davvero di essere celebrato con tutti gli onori i cento anni nero verdi siamo veramente molto felici io e mio fratello di essere qui e devo dire emozionati in tutti i sensi di poter partecipare a questo evento e vorrei ovviamente iniziare il mio discorso con i ringraziamenti al presidente Rossi che anche lui è emozionato al nostro amministratore delegato Giovanni Carnevali a tutto il team che segue quotidianamente la squadra e ovviamente il nostro allenatore tutta la squadra che ha contribuito e continua a contribuire per realizzare questi risultati che sono sempre migliori sempre più emozionanti un grazie va anche a tutti gli sponsor e ai tifosi del Sassuolo che ci teniamo a sottolineare li consideriamo veramente come la linfa vitale della nostra squadra e che c'è entusiasma che c'è entusiasma e ci sostengono nel progredire dei risultati di cui oggi possiamo essere solo orgogliosi risultati importanti che confermano la strategia avviata dal patrono Squinzi da nostro padre quando nel 2002 ha iniziato questa direi meravigliosa avventura nel Sassuolo Calcio in serie C anche se devo ricordare che Mapei aveva sponsorizzato precedentemente per tre anni se non erro il Sassuolo dall'88 al 91 come main sponsor e per il quale comunque per il Sassuolo era importante proprio creare le condizioni per proiettarsi sempre avanti e crescere raggiungendo importanti traguardi sono passati tanti calciatori da qui sono passati tanti allenatori che hanno contribuito a realizzare questa storia di una piccola squadra anche direi di provincia che in breve tempo con il passaggio in serie A nel 2013 si è proiettata nell'eccellenza del calcio non ci vogliamo di certo fermare ora e questo lo dico alla squadra e il cammino intrapreso è ancora lungo la sponsorizzazione però è iniziata come voi sapete che la nostra sponsorizzazione è iniziata come un debito di riconoscimento nei confronti del distretto di Sassuolo della ceramica la quale grazie alla sua diffusione nel mondo ha contribuito anche allo sviluppo di MAPEI negli anni la collaborazione è andata sempre più consolidandosi oggi la realtà del Sassuolo calcio è un progetto più vivo che mai e a tutti gli effetti parte del nostro gruppo e delle nostre strategie di crescita come più volte ha detto mio papà crescere 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 avere successo ma MAPEI ricalca in azienda quotidianamente i valori dello sport portando avanti una filosofia di vita del mai smettere di pedalare frase che ormai è diventata un po' il nostro motto anche quando ci scambiamo i messaggini dopo le partite molte volte diciamo mai smettere di pedalare che si applica al ciclismo così come al calcio anche se in questo momento momento storico non è proprio è difficile con il calcio infatti condividiamo quei valori che ci sono propri la fatica il lavoro di equip e non da ultimo la grinta e la voglia di vincere nell'affrontare nuove sfide per realizzare questo costante progresso nelle capacità atletiche MAPEI ha sempre creduto anche nella ricerca scientifica applicata allo sport come dimostra la creazione nel 1996 dello sport service MAPEI nato per supportare la nostra squadra ciclistica e che oggi non solo collabora con il mondo del calcio ma che si occupa anche di tecniche di allenamento valutazione degli atleti nutrizione e assistenza medico-sportiva su posto di molti altri sport come il ciclismo lo sci alpino il triathlon e solamente per cerettarne alcuni sia per i professionisti sia per gli amatori perché cerchiamo proprio di applicare gli stessi principi il Sassuolo è un progetto in cui crediamo al quale dedichiamo risorse umane e investimenti costanti ne sono la dimostrazione nell'acquisto nel 2013 dello stadio a Reggio Emilia esempio concreto della volontà MAPEI di radicarsi nel territorio e la costruzione del centro sportivo MAPEI Football Center nel 2019 progetto all'avanguardia di Onside Studio un centro di eccellenza per supportare la prima squadra ma anche la squadra femminile e i giovani e un punto di incontro con i tifosi e il territorio attraverso le iniziative della società anche di fronte al forte sviluppo del calcio femminile negli ultimi anni MAPEI ha risposto subito attivandosi con l'adozione della squadra femminile del Sassuolo Calcio nel 2017 che ci sta dando anche grandi soddisfazioni il Sassuolo è sempre attento ai giovani come ha dimostrato anche il progetto Generazione S di cui il video mi ha veramente emozionato vedendo la passione dei giovani e la voglia di affrontare il mondo del calcio con uno spirito positivo e con uno spirito di crescita anche la sostenibilità e l'impegno sociale fanno parte da sempre del nostro DNA e della nostra filosofia come mia mamma la dottoressa Spazzoli aveva ricordato nella conferenza stampa di presentazione del MAPEI Football Center la nostra vicinanza al territorio fa parte del nostro mondo modo di sentire la solidarietà e questo impegno il Sassuolo Calcio lo ha concretizzato anche di recente con la donazione all'ospedale di Sassuolo nell'occasione dell'emergenza sanitaria io vorrei chiudere confermando nonostante qualcuno sappia che mi sto innamorando del calcio che è confermando che la strategia poi di nostro padre che è stata adottata ed è tuttora condivisa da tutta la famiglia Squinzi continuerà a essere portata avanti perché questa è una cosa fondamentale e poter continuare a essere attuata e per realizzare traguardi sempre più importanti e obiettivi sempre ambiziosi che non sono molto celati vorrei chiudere con una frase che spesso mio padre citava che rappresenta assieme un'altra frase un po' più citata precedentemente e quello che è il nostro modo di essere e di agire per vincere insieme cosa vuol dire per vincere assieme tutti affiatati determinati verso obiettivi condivisi e ambiziosi tutta la società crede in questa squadra e lo dimostriamo nel quotidiano è vero il video ci ha emozionato la squadra è stata amata e i miei genitori ci hanno veramente creduto ma tutta l'azienda ci crede tutta l'azienda vuole portare avanti questo sogno e in primis la famiglia Squinzi ovviamente noi dobbiamo avere un approccio imprenditoriale come ha sempre contraddistinto anche la posizione di mio padre e la strategia di mio padre ci rendiamo conto che ci saranno dei cambiamenti ci potranno essere dei cambiamenti ma ovviamente come ha già detto mio fratello quello che è importante è lo spirito di squadra è lo spirito di stare insieme è lo spirito di voler creare qualche cosa e questo è un po' quello che ha caratterizzato anche la storia del sassuolo calcio il nostro capitano è con noi da tanti anni il nostro capitano ha la fascia che porta avanti i valori in cui noi crediamo quindi ovviamente noi dobbiamo noi siamo imprenditori e dobbiamo abbiamo la conoscenza di quello che possiamo fare e di come lo possiamo come lo dobbiamo fare quindi è un percorso che verrà se ci saranno delle scelte da prendere le prenderemo assolutamente insieme a carnevali quindi al nostro amministratore delegato a chi veramente capisce di calcio quindi del nostro allenatore e quindi sarà un gioco di squadra come sempre abbiamo fatto noi dobbiamo dare il giusto equilibrio sia alla parte sportiva che alla parte economica siamo una delle poche società che chiude un bilancio in modo positivo però il bello è di avere le stesse idee le stesse idee con la parte sportiva direttore sportivo mister settore giocatori credere nell'obiettivo tenendo sempre i piedi per terra perché non dobbiamo mai pensare di essere arrivati che sicuramente noi continueremo con il mister e nello stesso tempo c'è anche un percorso tecnico la volontà è quella di trattenere i giocatori più importanti noi non vogliamo cedere i giocatori come così do già delle risposte a chi le farà dopo ma i vari Bogà i vari Locatelli i vari Berardi la volontà della società è di trattenerli con noi perché vogliamo migliorarci e non possiamo migliorarci senza i giocatori più validi grazie